Il maltempo si è abbattuto come da previsioni in tutto il nord-est. Un fulmine ha colpito e incendiato una cabina dell'Enel in provincia di Udine, Grandine nell'Alto Friuli, diversi alberi abbattuti nel vento nella bassa. Le fiamme zalle di Udine hanno scoperto durante i controlli stradali oltre 100.000 litri di gasolio contraffatto che dall'Ungheria doveva presumibilmente arrivare a Napoli e Caserta. Il gasolio era stato contaminato con prodotti da taglio. Scoppia il caso in una scuola dell'infanzia di Prata di Pordenone. Mancano le cinture di sicurezza allo scuolabus per la gita. Maestre e genitori si rifiutano di far salire i bambini. L'importanza dell'acqua in agricoltura al centro dell'intervento dell'ingegner Sergio Grego, direttore generale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale. Ben ritrovati con l'informazione di Media24. In primo piano il maltempo che oggi pomeriggio ha investito tutta la regione Friuli e il Veneto Orientale. Grandine anche nel nord della provincia di Pordenone, in zona Fanna, Meduno, Connevischio fino a Fontana Fredda. Le raffiche di vento non hanno risparmiato niente nessuno e neanche la bassa Friulana. Tutti i dettagli nel servizio. Nel pomeriggio di oggi il maltempo come da previsioni è giunto a nord-est. Temporali e vento forte hanno fatto precipitare le temperature. A partire dal primo pomeriggio temporali con forte vento, qualche grandinata e spruzzate di neve si sono abbattuti sul nord della regione. Un fulmine ha colpito e incendiato una cabina dell'Enel a resiutta poco dopo le 15. Chicchi di grandine a Venzone, Paularo e Sauris, mentre a Tarvisio e a Sappada si è vista la neve. Grandine anche nel Pordenonese tra Fanna e Maniago fino a Meduno. Nevischio misto a grandine anche a Fontana Fredda dove le strade sono letteralmente diventate bianche. Fortunatamente non si segnalano danni. Le forte raffiche di vento hanno soffiato in tutta la regione nel Veneto Orientale abbattendo numerosi alberi che sono finiti sulle strade e in alcuni casi danneggiando le linee dell'Enel. Qualche esempio a Villanova di Motta di Livenza in via Sant'Agostino all'altezza della casetta dell'acqua un albero è stato abbattuto dalle raffiche di vento rovinando in mezzo alla strada e prontamente spostato di lato. Alla salute di San Stino un albero si è incendiato colpito da un fulmine. A causa del maltempo si è registrato anche un incidente in A4 con un mezzo pesante coinvolto all'altezza dello snodo di Portogruaro intorno alle 16 e 30 lungo la carezzata in direzione di Trieste. Le persone coinvolte sono riuscite ad uscire dagli abitacoli. Andiamo a Prata di Pordenone. Vi raccontiamo di un piccolo caso scoppiato questa mattina alla scuola dell'infanzia San Giuseppe, scuola del capoluogo. I bambini della sezione dei grandi dovevano andare in gita ma lo scuolabus messo a disposizione dal comune non aveva le cinture di sicurezza. I genitori si sono quindi rifiutati di far salire i loro bambini su un mezzo non in regola. Abbiamo sentito la ditta di trasporti che in sostituzione dello scuolabus del comune è riuscito comunque a salvare la gita. Sentiamo il contributo. Siamo con Luca Antoniazzi, titolare della ditta Antoniazzi Franco SRL di Roveredo in Piano, che oggi è riuscito a salvare la situazione portando in gita comunque i bambini. Buongiorno Antoniazzi, ci racconta com'è andata stamattina. Buongiorno, guardi, semplicemente è successo che questa mattina sono stato contattato dalla referenza della scuola dell'infanzia di Prata che si è trovata nella spiacevole situazione di essere rimasta a piedi con un trasporto scolastico con i bambini del suo asilo che dovevano recarsi in gita a Padova. Il problema è nato nel momento in cui il mezzo che è arrivato a caricarli si è rivelato non essere idoneo al trasporto che doveva fare, essendo che era uno scuolabus, da come mi ha detto anche piuttosto vecchio, piuttosto datato, e un mezzo che non aveva neanche le cinture di sicurezza. Al che i genitori che erano presenti e il personale stesso che avrebbe dovuto accompagnare i bambini si sono rifiutati di far salire i ragazzi a bordo e quindi si è attivato questo tantame a cui sono stati costretti per cercare un mezzo sostitutivo. Oltretutto il numero dei trasportati era importante perché erano 70. Quindi non un trasporto semplice, insomma, organizzare il trasporto di 70 bambini non è una corriera normale, non è sufficiente. Brava, non è la classica corriera da circa 50 posti. Io in prima battuta non avevo mezzi disponibili da mandare, essendo già tutti impegnati, però siamo stati fortunati in quanto ho contattato subito dei colleghi, nella persona di Roberto Bertolo, dell'ATAP di Pordenone, e della mia collega amica di Rovredo in Piano, Lara Vidali, i quali per fortuna in tempi strettissimi sono riusciti a mandare un pullman da oltre 60 posti e un mezzo piccolo da 9 posti. Con questi due mezzi siamo riusciti a partire, ovviamente in ritardo sulla tabella di marcia, ma almeno i bambini sono andati a fare l'uscita che dovevano fare. E in sicurezza con dei mezzi idonei al trasporto a Padova. Con dei idonei, con del personale in titolo di fare tali uscite, insomma. Grazie, grazie a Luca Antoniazzi. Grazie a lei. Grazie a tutti. E' verificato come il capitolato d'appalto comunale preveda comunque, anche per gli automezzi da impiegare per le gite scolastiche, la presenza delle cinture di sicurezza. E' inaccettabile che succedano queste vicende, ha commentato il sindaco Katia Cescon, visto e considerato che il piano gite viene fornito con largo anticipo alla ditta. Si tratta di malorganizzazione e scarsa responsabilità da parte della ditta, consapevole anche del tipo di utenza di questo viaggio, ossia bambini molto piccoli. La sicurezza è la prima cosa da garantire e per questo ringrazio gli uffici comunali e la Scuola dell'Infanzia San Giuseppe per aver risolto il problema in tempi rapidi e nel migliore dei modi. Continueremo a vigilare, ha assicurato la Cescon, sul servizio offerto dalla ditta e provvederemo ad agire con le misure previste dal capitolato. Dalla scuola la rappresentante del consiglio direttivo Laura Moretto ha ridotto un po' l'incidente di questa mattina ad un inghippo organizzativo. L'importante, ha detto Laura Moretto, è che i bambini siano riusciti ad andare in zitta. Essi sono anche molto divertiti. I bambini sono stati in zitta a Padova, hanno visitato il Museo della Natura e dell'Uomo e nel pomeriggio la Cappella degli Scrovegni. Sono riusciti anche a fare un picnic all'aperto, essendo il tempo mantenutosi bello. Passiamo ora alla cronaca. Dobbiamo darvi conto, purtroppo, di un incidente sul lavoro. Un uomo di 75 anni, residente in Veneto e dipendente di un'azienda edile di San Fior, è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in una zona montana di Caneva. L'operaio è scivolato all'interno del cantiere edile, ferendosi seriamente al busto dopo essere caduto su alcune tegole. È stato prontamente soccorso, stabilizzato sul posto e elitrasportato all'ospedale di Udine, dove non è considerato fortunatamente in pericolo di vita. Le autorità competenti stanno conducendo indagini sull'incidente. E arrivano i primi dati sull'autovelox in funzione sulla Cimpello Sequals. Il numero effettivamente registrato di infrazioni è molto alto ed hanno un'immagine chiara della pericolosità di questa strada, dove recentemente anche con l'assessore regionale all'infrastruttura e ammirante è stato appunto presentato il progetto di sicurezza con l'installazione di vari autovelox. In una settimana, dal 9 al 15 aprile, gli autovelox hanno registrato ben 71 violazioni per eccesso di velocità, pari a circa 10 al giorno. Il caso più eclatante è quello di un veicolo che andava a ben 142 km orari in un tratto con limite di 90 km orari. Con i velox mobili, invece, le forze dell'ordine hanno controllato 96 veicoli in due settimane, registrando 14 violazioni. Restiamo sulle strade friulane per raccontarvi di un'importante operazione della Guardia di Finanza che in quattro controlli è riuscito a sequestrare 108 mila litri di gasolio contraffatto. I dettagli nel servizio. Sottoposti a sequestro 108 mila litri di gasolio di contrabbando in 108 fusti di plastica e quattro auto articolati. Elevate 45 violazioni al codice della strada e tre violazioni alla legge per il trasporto internazionale per complessivi 31.486 euro di sanzioni. Gli autotrasportatori sono stati inoltre tutti denunciati alla Procura della Repubblica di Udine. È questo l'esito dei controlli eseguiti dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Stradale di Udine lungo la rete autostradale. Nel corso di quattro distinti interventi, i finanzieri e gli agenti della stradale hanno intercettato quattro trasporti illegali di gasolio, sequestrando 108 mila litri di prodotto di contrabbando. Il gasolio è stato introdotto in Italia dal confine di Tarvisio proveniente dall'Ungheria, risultando in apparenza destinato alle province di Napoli e Caserta. I quattro carichi illeciti sono stati inizialmente intercettati all'interno delle aree di servizio di Cormor Ovest, Zulliano Ovest e Gonars Nord, dai militari del Nucleo di Pulizia Economico-Finanziaria di Udine. In particolare, nel corso dei controlli in autostrada, le fiamme gialle sono state insospettite dalle caratteristiche inusuali delle miscele trasportate. Per questo hanno effettuato delle prove a campione sulla densità del liquido. Dalle analisi chimiche di laboratorio effettuate sul gasolio sequestrato, è emerso che il carburante era contaminato da prodotti da taglio, utilizzati per modificarne la natura e rendere difficile la rilevazione di eventuali illeciti nelle fasi del trasporto alla rete dei distributori stradali. Il gasolio, una volta immesso in circolazione, avrebbe determinato effetti altamente deleteri sul funzionamento dei motori degli autoveicoli degli ignari acquirenti. Mercoledì 15 maggio, nella sala De Gann della Biblioteca Civica, si terrà il Recruiting Day, organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione. Il progetto, dedicato ai giovani under 35, è stato presentato dal Vice Sindaco Alberto Parigi. Vediamo il servizio. Presentato oggi in municipio, il progetto Recruiting Day Young, che si terrà il 15 maggio a Pordenone, presso la sala De Gann della Biblioteca Civica. L'evento, organizzato dal Comune in collaborazione con la Regione FWG, è rivolto ai giovani under 35 e consentirà ad alcune importanti aziende del territorio di colloquiare con i giovani che presenteranno la propria candidatura. È un'occasione che noi diamo ai giovani, per i quali per noi è molto importante dare delle possibilità di incrociare delle aziende, avere cinque minuti a disposizione per presentarsi e per spiegare perché l'azienda dovrebbe puntare su di loro per valorizzare il loro futuro. È un'esperienza che può essere fatta sia anche da ragazzi che studiano, quindi che magari non hanno come obiettivo lavorare in questo contesto, ma che potrebbe poi diventare un'opportunità di lavoro anche nel futuro. E comunque per entrare nel mondo del lavoro e fare un'esperienza iniziale in maniera così abbastanza veloce. Per questo Recruiting Day devo ringraziare la Regione e le aziende coinvolte e il Comune da un supporto logistico organizzativo di comunicazione grazie al suo Dipartimento delle Politiche Giovani Lì. Non è il primo Recruiting Day che organizziamo, questo è il quinto dall'inizio di questo mandato, segno di un'attenzione del Comune e della Regione verso i giovani e il lavoro. Quella tra Regione e Comune è una vera e propria alleanza per i ragazzi del nostro territorio, se pensiamo agli 11 milioni arrivati per la sede universitaria in centro, e devo ringraziare in particolare l'assessore Alessio Rosolè, ma anche i 405 mila euro per l'aula studio universitaria che insediremo in città. Quindi diciamo un impegno attento e concreto. E del futuro dei giovani friulani si continua a parlare a tutti i livelli. Abbiamo sentito in proposito Mauro Capozzella, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Un grande escuramento che si sente ancora parlare in consiglio regionale di finanziamenti per il secondo figlio, per le giovani coppie. Qualcuno anche dice, ma perché escludere il terzo figlio? Si discute sui figli, mentre il reale problema è che i giovani, soprattutto i neolaureati, soprattutto nelle materie che hanno più mercato in giro per il mondo, se ne vanno. Ne perdiamo ormai migliaia ogni anno per un costo economico che raggiunge centinaia di milioni annualmente. Noi dobbiamo intervenire come istituzione, come regione, Friuli Venezia Giulia, diciamo molto prima che i giovani decidano di fare famiglia e di fare di conseguenza figli, senza capigliarci sul numero dei figli due o tre a cui dedicare il bonus. Noi dobbiamo incentivare i giovani a rimanere nella nostra regione, a credere nella nostra regione senza questa immigrazione di massa che ci rende sicuramente più poveri economicamente e più vecchi, con uno sguardo rivolto al futuro sempre più incerto e problematico. Parliamo di inflazione. L'inflazione in Italia corre. Oggi l'Istat ha pubblicato i dati relativi al mese di marzo. Venezia e Pordenone sono nella top ten, purtroppo, delle città più care. Venezia è al sesto posto e Pordenone all'ottavo. Chiude la top ten Trieste per il nord-est. Nei giorni scorsi ha avuto luogo la prima riunione della nuova commissione prezzi al consumo, nominata per il bienio 2024-2025 dal comune di Pordenone. La commissione è presieduta dall'assessore Walter De Bortoli ed è composta da Fiorella Piccin, della Camera di Commercio di Pordenone, Paola Diana, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, Marco Veneziani, Confindustria Alto Adriatico, Silvia Gallai, della Confcommercio Ascom Pordenone, Giancarlo Gaspardo, di Confcomf Agricoltura, Stefano Arnone, CISL, Michela Papavero, CGL e nuovo membro Pier Antonio Rigo della UIL Pordenone. Nel corso dell'incontro l'assessore De Bortoli ha illustrato le risorse che il comune mette in campo per la realizzazione dell'indagine e ha incaricato rilevatori esterni ed interni che mensilmente o bimensilmente visitano anche alcuni degli esercizi presenti sul territorio. Nel comune di Pordenone ogni mese sei rilevatori visitano 500 esercizi commerciali e raccolgono dati di dettaglio riguardanti oltre 5.000 prezzi. Oggi tra gli scopi formali della Commissione c'è il controllo sulle modalità di rilevazione dei prezzi, sulla corrispondenza tra i prodotti indicati dall'Istat e quelli rilevati, sull'adeguatezza delle risorse utilizzate e sul rispetto delle indicazioni fornite dall'Istat. E' venuto a trovarci oggi il sindaco di Meduna, Arnaldo Pitton, che ringrazio. E non posso esimermi immediatamente da chiederle del maltempo che è imperversa oggi pomeriggio nei nostri comuni. Com'è la situazione a Meduna? Grazie a voi dell'invito. Beh, sinceramente non è proprio bella, nel senso abbiamo ricevuto diverse telefonate, sono caduti alberi, anche alberi importanti, in centro paese, vicino al monumento dei caduti, dove c'è la ciclo pedonale, per fortuna non passava nessuno, nella frazione di mure, che ha danneggiato anche dei cavi dell'energia elettrica, infatti una parte di abitazioni sono senza corrente, qualche tetto scoperchiato di piccole entità, però insomma, ecco, abbiamo dovuto chiamare dei riforsi, degli aiuti. E il sindaco è qui oggi in realtà per parlarci di un investimento che nel suo piccolo è storico per Meduna e in particolare per la frazione di Brische, che da decenni aspetta il rifacimento delle fognature. Sì, ne siamo veramente orgogliosi, perché la frazione di Brische oltre 70 anni effettivamente non ha l'impianto di fognature, una buona parte di scarichi vanno nel San Bellino e quindi insomma, ecco, non è cosa buona e giusta. Siamo riusciti in questi cinque anni, con un accordo con LTA, che poi ricordo siamo l'unico comune nella provincia di Treviso, facendo parte con quote anche importanti e fin da subito abbiamo instaurato un rapporto collaborativo e tanto il fatto che insomma, ecco, siamo in fase di arrivo per poter realizzare quest'opera. Ecco, sono quelle opere che non sono visibili, che non portano voti, magari se vogliamo, perché non sono a impatto visivo, però sono opere veramente importanti per la nostra comunità, per l'ambiente e per i nostri figli. E approfitto della presenza del sindaco per parlare anche di una cosa bella, una cosa bella per le persone, per la cittadinanza. Non mi ricordo, 20-25 anni, siete gemellati con la città di Seinfeld, in Germania e quest'anno, proprio in questi giorni, c'è stato il gemellaggio delle mamme. Allora, guardi, in realtà nel 2026 festeggeremo i 40 anni di questo gemellaggio e posso dirlo con orgoglio anche qua, perché tra l'altro il sottoscritto, quando aveva una folta chioma capellosa e era molto più giovane, avevo 18 anni, ho partecipato alla prima gita dove con Seinfeld e Meduna, con il vecchio sindaco, si iniziava questo rapporto. Quindi pensi lei quante persone, quanti amici, che amicizia duratura con questo comune qua. Ebbene, il gemellaggio coincide anche con questi scambi giovanili tra le scuole, tra i studenti della Germania e dell'Italia, ben oltre 20 anni fa e quindi queste ragazzine che oltre 20 anni fa hanno fatto il primo scambio giovanile in quel di Meduna, ora da mamme sono venute e a sua volta manderanno i propri figli. Quindi è una cosa veramente stata tre giorni con queste mamme fantastiche e ci siamo trovati, insomma è una maniera di legare queste due comunità diverse ma uguali nei rapporti e nello spirito. Quindi siamo alla seconda generazione, puntiamo alla terza. Ci proviamo, ben volentieri, ci proviamo. Anzi colgo anche l'occasione se non me lo permettete di ringraziare la Presidente Veratrucolo, tutto il gruppo del gemellaggio, l'assessore Giovanna Donadello, tutte quelle persone insomma che hanno contribuito e lavorato per realizzare questo scambio mamme. insomma è stato veramente bello. Sì, ricordiamo che dietro c'è sempre tanta gente che lavora, anche il gemellaggio non va avanti da solo. Sì, tanto lavoro, volontariato e tanta passione, tanta passione. Grazie al sindaco Arnaldo Pittoni. Grazie a voi, grazie. Il comune di Fossalta di Portogruaro sabato ricorderà Monsignor Pietro Giacomo Nonis nel decennale della morte. in oratorio San Zenone sarà presentato un volume con il quale appunto verrà ricordata la figura del concittadino, docente universitario e vescovo di Vicenza. La pubblicazione raccoglie alcuni dei suoi scritti in lingua friulana ed in lingua italiana. Sono pagine che descrivono con assoluta efficacia la civiltà rurale di Fossalta del secolo scorso e rimangono l'unica testimonianza scritta e coerente della parlata fossaltese riconosciuta come appartenente alla storia e cultura friulana. Sabato, il volume a cura di Andrea Battistone e Claudio Romanzin edito dal comune di Fossalta di Portogruaro e dalla società filologica friulana sarà presentato da Luigi Zanin della deputazione di Storia Patria delle Venezze. Chiudiamo con la musica perché la Fondazione Musicale Santa Cecilia in collaborazione con la Scuola di Musica di La Tisana e con l'Istituto Musicale Upitergino Fabrizio e Lidia Visentin di Oderzo ha organizzato tra aprile e maggio cinque appuntamenti concertisti ad ingresso gratuito dislocati tra Portogruaro Oderzo e La Tisana dove i protagonisti saranno gli allievi delle rispettive scuole di musica. Si inizierà venerdì alle 20.45 nella sala concerto di Palazzo Moro a Oderzo si seguirà a Portogruaro nella giornata di sabato 20 aprile alle 17.30 nel foyer della Magnolia della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Lunedì 29 aprile invece l'appuntamento si terrà alle ore 15 presso la sala delle colonne del Collegio Marconi di Portogruaro. Gli ultimi due appuntamenti sono in programma nel mese di maggio sabato 18 alle 17.30 sempre nel foyer della Magnolia della Fondazione Musicale Santa Cecilia e domenica 26 alle ore 11 presso la Galleria d'Arte e la Cantina di La Tisana. Ricordiamo tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Durante il convegno di venerdì scorso organizzato da Livenza Tagliamento Acque alle Torrate a Chions siamo riusciti a intervistare il direttore generale del Consorzio di Bonifica del Veneto Orientale Sergio Grego sull'importanza dell'acqua in agricoltura. Vediamo il servizio. Ingegnere Grego oggi un bellissimo convegno qui alle Torrate da parte dell'LTA Acque ci sono stati tantissimi interventi importanti di persone dell'università eccetera però una cosa che ho così visto è che l'acqua va fermata ma anche l'acqua va tolta beh la sua funzione nelle bonifiche forse è quella di togliere l'acqua. Lo chiamiamo consorsi di bonifica perché qui da noi nell'Alto Adriatico la azione principale dei consorsi è stata quella di bonificare i territori di palude e di malaria ma non scordiamo l'altra funzione che è quella della cosiddetta irrigazione che poi irrigazione non è perché è riporto di acque dolci in territori che essendo sotto il livello del mare prosciugati sarebbero arsi tanto per dare un termine molto comprensibile se non ci fosse un apporto adeguato di acqua dolce che è utile per l'agricoltura ma è utile per il paesaggio e l'ambiente in cui andiamo a vivere è ormai un paesaggio e un ambiente dove si vive molto intensamente con molta ricchezza con molto turismo con molte infrastrutture con molta manifatturiera oltre che con molta agricoltura e quindi portare l'acqua a un ritmo veramente importante è un fatto non solo agricolo ma è un fatto ambientale paesaggistico ed è tutto antropico ed è tutto fatto ecco noi siamo i più grandi gestori dell'acqua del territorio perché l'idropotabile ha acqua di qualità ha acqua per bere ma ne usa molto molto meno ecco diceva uno che non si sa quanta acqua ci sono nelle falde ma evidentemente per quanto riguarda l'agricoltura rischiamo poi di pagare anche l'acqua per l'agricoltura sì molti anni fa cento anni fa quando c'è stato un grande convegno sulla bonifica è stato dettato un criterio che credo che bisognerebbe che fosse più conosciuto il criterio che l'acqua si paga per beneficio non per costo che vuol dire che io non posso pagare un bene più di quanto con questo bene riesco a produrre perché c'è anche una sostenibilità economica in ciò che si fa allora se per bere un litro d'acqua posso pagare un euro con un litro d'acqua a un euro o con un metro cubo a un euro non posso fare attività redditizie in agricoltura e quindi i paesi che oggi usano l'acqua per produrre che sono l'Italia la Spagna e la Grecia in questo contesto europeo dove le norme sono state fatte e anche molto condizionate dagli stati dove non si usa l'acqua per l'agricoltura quindi i paesi del nord la Germania eccetera stanno cercando di riportare l'asse in un ambito corretto di costo dell'acqua in funzione anche del beneficio che può dare insomma ecco una delle cose che noto così girando perché la mia fortuna è quella di girare e conoscere un po' la società attraversalmente ecco l'impressione è che gli utenti la gente i cittadini eccetera non sappiano non conoscono tutti questi particolari perché a volte dicono delle cose che così proprio per dire si guardi io vengo da una laurea non voglio gonfiarmi ma insomma avendo lavorato molto su questo aspetto penso di poter dire qualche cosa dopo 5 anni di studi intensi in ingegneria idraulica a Padova che è uno degli atenei forse più importanti al mondo per gli studi sulle acque e dopo 30 e più anni di lavoro in un ente dove l'acqua si gestisce qualcosa ne capisco ma ho tanti dubbi anch'io su molte cose e sentire parlare a caso dell'acqua mi dà molto fastidio ecco qualcuno crede che il conflitto dell'acqua sia quello di lavarsene i denti lasciando il rubinetto aperto certamente è un dato culturale lo spreco è sempre da vietare è un corretto anche proprio benessere personale nel saper usare le risorse con adeguata misura va bene ma non è lì il tema non è lì il tema il tema non è neanche sulla quantità di acqua potabile il tema perché l'acqua potabile in Italia insomma o il mondo si distrugge o comunque l'avremo sempre il problema è della gestione dei territori dell'ambiente delle acque che hanno numeri enormi da gestione è molto complicato insomma ci vuole molta competenza e bisognerebbe che ognuno facesse con coscienza e con scienza il proprio mestiere grazie ingegnere e questa era l'ultima notizia di oggi vi lascio alla programmazione della rete buona serata grazie a tutti